Il nuovo Presidente del Nardò Maurizio Fanuli, siamo qui per ricominciare, ce l'avevamo promesso reciprocamente, abbiamo vissuto alcuni mesi fa dei momenti che nessuno di noi avrebbe voluto vivere, sono stati momenti sofferti, li abbiamo superati, ci siamo sentiti, ci siamo parlati, ci siamo detti, dobbiamo fare in modo che passino in fretta e che la nostra città torni a stare dove deve stare, nel novero delle più importanti squadre della regione Puglia. Questo è l'impegno che abbiamo assunto, abbiamo cercato di fare il possibile, da alcuni mesi anche in via riservata abbiamo avviato diverse, sono avviati un po' di trattative, voi lo sapete, ormai conosciamo bene questa piazza, un po' di attenzione c'era. Abbiamo ritenuto di dare concretezza a quelle che ci sono sembrate avere la prospettiva più solida. la presenza di Maurizio Fanuli è il segno che si è decisi di andare in questa direzione, abbiamo avuto già modo di scambiare qualche battuta con i cortesi giornalisti che ringrazio per la presenza e ringrazio anche per l'attenzione che prestano alla nostra città e alle vicende dello sport di questa città. Maurizio Fanuli è uno degli imprenditori che più si intendono di calcio nella nostra provincia, è una persona considerata molto affidabile sia sul piano professionale sia come dirigente di calcio, è una persona che è molto legata al calcio salentino, quindi anche un forte radicamento con il salento, con le nostre città e con il calcio delle nostre città, è anche un conoscitore di calcio, oltre che un appassionato, è una persona che se ne intende, è uno dei presidenti e dei dirigenti di calcio più stimati e più apprezzati nel panorama sportivo regionale a tutti i livelli, anche a livello federale, è una persona che ritiene importante anche partire dal basso e dare importanza non soltanto ai risultati ma anche alla promozione dello sport e alla promozione dei giovani allo sport, una serie di cose che ci hanno portati a chiedere a Maurizio Fanuli di fare, di partire con questa nuova avventura nella nostra città e siamo molto contenti, siamo molto contenti che egli abbia accettato di intraprendere questa nuova avventura. Io non aggiungo altro perché poi se ci sarà necessità comunque siamo anche a disposizione dei giornalisti e soprattutto voglio cedere il microfono a lui. Sento, ecco, devo dire soltanto due cose prima di concludere. Innanzitutto ringraziare tutti coloro che in vario modo hanno contribuito a far ripartire, a creare le condizioni perché riparta il calcio nella nostra città. Sono diversi gli amici che hanno dato vita al comitato per il nuovo Nardova, alcuni sono presenti qui, vedo Maurizio dei ritorni, vedo l'avvocato Salvatore Meditis, grandi appassionati del calcio di questa città che in via riservata hanno lavorato accanto a me per fare in modo che si potesse ripartire in modo serio e in modo forte. Vedo anche il dottore Esposito qui e lo saluto in sala con noi. Il presidente della consulta dello sport, l'avvocato Giuseppe Ienuso, il quale ha voluto dare il contributo generoso e fondamentale in un di momento. Anche gli amministratori che collaborano con noi nell'amministrazione di questa città, a partire dall'assessore allo sport, Flavio. Gli amici, gli amici e i tifosi, gli amici e i tifosi che ci hanno incoraggiato in questo sforzo e che soprattutto l'hanno fatto anche con l'intelligenza di una tifoseria che sapeva molto bene che in certi momenti ci sognava aspettare senza forzature e senza prese di posizione che potevano in qualche modo poi rovinare tutto. Quindi una tifoseria che ha dimostrato molta intelligenza, oltre che la passione che la caratteristica. La seconda cosa, ho terminato, voglio presentare, ho il dovere di presentare con il sindaco di questa città al nuovo presidente Maurizio Fanuli, la nostra città. È una città che ama lo sport, è una città che ama il calcio, è una città che ha una grande tifoseria, che crede nello sport e che crede nel calcio, è una città che sa affezionarsi tanto a coloro che mostrano di amarla e che mostrano di tenerci. Io dico che ci sono tutte le condizioni perché parta un nuovo ciclo, un nuovo presidente che mi sia consentito, una grande città e una grande tifoseria.